Il volto del padre, in mezzo agli ulivi, nel cielo. Il volto di Gesù con le spine sul capo, la sagoma di Gesù che insegna la croce alle mani, ci insegna a portare la croce. Gloria e gloria al padre e al figlio, al padre e al figlio, al padre. Padre, padre perché mi hai abbandonato, ma lui non l'aveva abbandonato perché è risuscitato. Amen. Dio apparse a Mosè. Ma Dio è anche qui, in via Mastinelle 9. Grazie. 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 Grazie a tutti.